No, no, tu non vai da nessuna parte perché questi stanno arrivando. Ah, per te è più importante il tuo ospite di Cico? Sì, Rita, decisamente sì. Ti vorrei ricordare che noi siamo nella merda. Se salta questo appalto noi ci giochiamo tutto. Tutto, è chiaro? Ci giochiamo la casa, la società, la casa in Sardegna e pure la tua galleria d'arte. Tutto. Siamo nella merda, lo capisci o no? Ascoltami bene. Quando il ministro se ne va, tu scendi e vai a cercare Cico. E non t'azzardare a ritornare dentro casa senza il cane perché io non ti faccio entrare, hai capito? Va bene, va bene.